le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di mercoledì 6 marzo ariete sarebbe il momento giusto per agire ma in giornate come questa vi fate bloccare dalla tensione marte vi spinge a prendere iniziative e invece voi non fate altro che litigare toro gli affari sembrano andare a gonfie vele mercurio favorisce gli incassi la luna vi aiuta ad impostare nuovi progetti in grado di portare grandi miglioramenti gemelli marte fa sentire il suo influsso incalzante volete recuperare il tempo perso e questo può provocare qualche errore di valutazione concedetevi una pausa cancro la luna opposta rischia di farvi dire qualche parola di troppo all'indirizzo del partner o di un collega di lavoro tenete a freno le parole non esagerate con le critiche leone sarà una giornata senza grandi avvenimenti la luna vi farà sprofondare nella routine e voi porterete a termine i vostri compiti giornalieri come se foste degli automi vergine la luna è formidabile per chi deve affrontare un colloquio di lavoro o per chi deve sostenere un esame importante la fortuna è decisamente dalla vostra parte bilancia la luna mette un po di zizzania nell'ambiente professionale mercurio fa aumentare le spese il compenso marte e venere continuano a ricoprirvi d'amore scorpione godetevi questa luna in aspetto con urano che vi fa girare la testa in amore non fatevi troppe domande e buttatevi sul lavoro dovete essere tempestivi sagittario non fatevi condizionare dalle critiche che possono arrivare in giornata dovete essere sicuri di voi stessi gli altri parlano per invidia o per timore capricorno la luna nel vostro segno è pronta a sostenervi per tutta la giornata il vostro umore sarà ottimo e riuscirete a portare a termine ogni cosa che avete in programma con facilità acquario sarà una giornata piuttosto impegnativa a causa della luna in capricorno sarete un po incerti su quello che dovete fare perdendo del tempo prezioso pesci la luna vi permette di affrontare questa giornata nella maniera migliore potete contare su una grande lucidità mentale ma anche sul sostegno delle persone che vi circondano e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus